Saggi di fine corso per l'Unione Musicale Civile Vecchiese si parte domani con sei appuntamenti. Sei appuntamenti importanti che vedranno protagonisti gli allievi dei vari corsi musicali e naturalmente per spiegare meglio che cosa accadrà in questi pomeriggi così importanti perché saranno impegnati tanti allievi delle nostre classi lascio la parola al Vice Presidente Max Petronil e naturalmente al Direttore Artistico Tiziano Leonardi. Salve a tutti, sì come diceva la nostra Presidente noi avremo sei appuntamenti molto intensi dove ci sarà l'opportunità per tutti gli allievi della scuola di far vedere ai propri genitori, insomma ai propri parenti quello che durante tutto il corso dell'anno si è portato avanti con molto impegno da parte loro. La cosa che ci inorgoglisce è il fatto che ogni anno la nostra scuola ha la possibilità e l'onore di avere sempre nuovi allievi che portano lustro ed anche danno la possibilità alla nostra scuola quindi di crescere. Io mi soffermo solo a parlare di quello che è il saggio che riguarda anche la mia classe che è il saggio che è nel giorno 12 quindi mercoledì della prossima settimana. Noi partiremo leggermente prima rispetto agli altri saggi che solitamente partono verso le 17.30 noi partiremo puntualissimi alle 17 per far sì che gli oltre 68 allievi possano esibirsi nel saggio di fronte ai loro parenti che saranno numerosissimi come è stato anche lo scorso anno. Per gli altri saggi lascio la parola al mio collega ed amico Tiziano Leonardi che è qui vicino a me. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei appuntamenti perché? Perché quest'anno forse c'è stato un record almeno che vada a mia memoria, un record di iscrizioni, siamo oltre 200 quindi abbiamo dovuto dipanare in sei appuntamenti. Gli altri cinque giorni riguardano appunto le classi più classiche appunto di pianoforte, la classe appunto di chitarra classica, la classe di canto lirico, la classe appunto di violino, la classe di sassofono, la classe di propedeutica musicale ma volevo soffermarmi sulle classi di ensemble, di clarinetti, di trombe, basso tuba che ho cominciato a suonare. La banda appunto sta andando alla grande e non solo ci siamo soffermati a fare quello che riguarda la banda a studiare e a appunto crescere per quello che riguarda il percorso bandistico ma ci siamo anche voluti cimentare in altri piccoli saggi, in altre piccole esibizioni che non solo come dicevo riguardano la banda ma anche esibizioni musicali di ensemble di clarinetti ensemble di trombe, ensemble di sassofoni, quindi sarà un appuntamento divertente che vedrà anche noi professori, anche perché no, mettersi alla prova. E' un appuntamento che appunto rivolgiamo a tutti quanti, cominciamo venerdì 7 giugno poi andando avanti con sabato 8, domenica 9, lunedì 10, mercoledì 12, si salterà l'11 e giovedì 13 appunto per concludere. Grazie a tutti.